Il modo in cui si pone durante le gare mi piace Intanto parallele e asimmetriche con Alice D'Amato Bene, questa prima parte Appunto Molto bene, piantata a caccia Fcarpio, salto Pac Piantata a sciapo mezzo, bravissima Quanto mi piace vedere le spalle anche che spingono sullo stagio Proprio a sentire la stabilità del corpo Molto bene questo giro E doppio avanti d'uscita, bellissimo, altissimo Super Ha detto qualcosa Marco, ha detto qualcosa che non ho capito Adesso chissà, tra di loro Però un esercizio che a vederlo così, che gli vuoi dire? Scioltezza Niente I colpettichi